Formatasi in gruppi sperimentali, si è imposta tra il 1969 e il 1976 al Teatro Stabile dell'Aquila, lavorando con registi come Calenda. Operetta di Gombrowicz, 1969, Trionfo, Arden di Feversham e di Anonimo Elisabettiano, 1971, Eccobelli, La pazza di Cialo di Giraudox, 1972, La figlia di Iorio di D'Annunzio, 1973, Antonio e Cleopatra di Shakespeare, 1974. La sua carriera inizia giovanissima nel Teatro dei 101 diretto da Antonio Calenda, dove muove i primi passi insieme ad altri ragazzi che diverranno pilastri del teatro italiano come Nando Gazzolo e Gigi Proietti. Recita come prima attrice al Teatro Stabile d'Abruzzo in Antonio e Cleopatra, la figlia di Iorio e successivamente in Molli. Cara, nel 1966 avviene il suo esordio in TV con uno sceneggiato di grande successo, Il conte di Monte Cristo. La sua carriera cinematografica inizia invece l'anno successivo con il film Trio per la reggia di Gianfranco Mingozzi, a cui seguirà questi fantasmi di Renato Castellani. Piera degli Esposti continua così tra palco. Sette TV con il circolo Piquic di Ugo Gregoretti è, al cinema, Commedia, diretto da Pier Paolo Pasolini. E sotto il segno dello scorpione dei fratelli Taviani. A teatro lavora con registi come Scaparro, Guicciardini, Sequi e Massimo Castri, con quest'ultimo i Rosemary Schorm di B. Sen nel 1980. Sempre nel 1980 scrive insieme a Dacia Maraini, amica di lunga data, la storia intensa della sua gioventù, nel romanzo di grande successo Storia di Piera. Divenuto film tre anni dopo, per la reggia di Marco Ferreri e la sceneggiatura della stessa degli Esposti. All'inizio degli anni Ottanta recita per Nanni Moretti in Sogni d'Ore e per Cinzia T.H. Torrin in Giocare d'Azzardo, Marco Ferreri sarà in questo periodo il primo a sfruttare le sue doti di sceneggiatrice. Nel film da lui diretto Il futuro è donna. Interpretato dalla stessa Piera, in una parte minore, da Ornella Muti e Anna Scigulla. In seguito sarà diretta da Lina Wertmuller che la sceglie per tre suoi film. Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada. Il decimo clandestino è metalmeccanico e parrucchiere in un turbine di sesso e politica. Nel 1986 vinci il Nastro d'Argento per la sua interpretazione di Teresa in La Coda del Diavolo. Diretta da Giorgio Treves, al suo primo lavoro, allo stesso tempo lavora assiduamente in teatro. Recitando in Madre e Coraggio, Prometeo e lo Stabat Mater. Nel 1988 è stata invitata ad interpretare il ruolo di Venezia nel mediometraggio biennale Apollo. Di Silvano Bussotti prodotto dalla Biennale di Venezia. Interpreta poi la badessa nel noto sceneggiato di Salvatore Nocita I Promessi Sposi del 1989. Dal romanzo omonimo di Alessandro Manzoni. Nel 1996 recita nel film Incentrato su Pasolini. Nerolio, diretto da Aurelio Grimaldi. Nel 2001 interpreta Ferreri Loviu e l'ora di religione di Marco Bellocchio. Per il quale vinci il David Di Donatello per la miglior attrice non protagonista. La degli esposti continua prolificamente a dividersi tra cinema e tv. Per il primo prende parti a film come Il Vestito da Sposa. Il compleanno e il 37. Per la seconda a fiction come Diritto di Difesa. Il 2006 ed il 2007 sono altri anni proficui. Poiché lavora con Marcello Garofalo in Tre Donne Morali nel quale veste i panni di una ex suora. Ora proprietaria di un cinema porno e con Giuseppe Tornatore nell'uarla sconosciuta. Ottiene ottime critiche per entrambe le interpretazioni e per la seconda viene candidata in Astri. D'Argento, esordisce alla regia di opera lirica dirigendo L'Odoletta di Pietro Mascagni. La note di un nevrastenico di Nino Rota e la voce umana di Francis Pulenneci. Il 2008 è un altro anno proficuo. Di fatto escono nelle sale ben due lavori. A giugno il cortometraggio di Francesco Vaccaro Lettera d'amore a Robert Michun presentato. Precedentemente alla festa del cinema di Roma 2007 il divo di Paolo Sorrentino. In questa pellicola Piera interpreta Enea. Storica segretaria di Giulio Andreotti. Della quale si conosce poco o niente. Ruolo che la porta in concorso al Festival di Cane che le fa guadagnare un altro David D. Donatello, successivamente è sul set di Maria Sole Tognazzi con il film L'Uomo che ama nel quale recita. Accanto a Pierfrancesco Favino, Marisa Paredes e Monica Bellucci. Nel 2010 è diretta da Giovanni Veronesi in Genitori and Figli agitare bene prima dell'uso e da Marco Filiberti nel compleanno. Inoltre gira tre film per la TV. Il mondo di Patti. Mannaggia alla miseria e donne di Sicilia. Nel 2011 gira Cagliari i bambini della sua vita diretta da Peter Marchas. Per questa interpretazione vinci il globo d'oro alla miglior attrice. Il 25 novembre 2013, in occasione della presentazione ufficiale del documentario Tutte le storie di Piera diretto da Peter Marchas al Torino Film Festival, riceve il premio Maria Adriana Prolo alla carriera, conferitole dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema. La cerimonia della consegna del premio è accompagnata da una doppia laudatio. Si alternano il regista e amico Riccardo Milani e il critico Alberto Crespi.